Perché carta, perché web e perché social? Perché noi abbiamo individuato nei riferimenti dei nostri lettori delle profilazioni di utenti, giovani, middle e old, che non si può escludere il social, non si può escludere la carta. La carta è la parte più costosa, perché oltre che va impaginato, va stampato e va distribuito. È un lusso la carta. Però questo lusso ci fa riflettere perché nella profilazione dei nostri lettori l'anziano over 60, over 65, che magari non è molto smart sulla parte tablet, elettronica, smartphone e quant'altro, vuole il pezzo di carta. Vuole ancora leggere sulla parte cartacea. Perciò questa richiesta, questa soddisfazione, noi la diamo. Anche la persona anziana è quello che soffre più di patologie e è quello che ha anche un potere di spesa più importante rispetto a un giovane. Perciò alla fine il giovane non è che l'abbiamo escluso, perché col social lo andiamo a prendere. Però la parte più anziana è quella che va coperta con la parte di cartacea. Ci saranno anche degli speciali. Gli speciali dovrebbero essere circa 4 volte l'anno, questo è il pensiero, ogni 3 mesi. Dove magari parliamo tutto farmacie, perciò prodotti di farmacie, prodotti da banco, ma anche le novità che ci sono. Abbiamo fatto un accordo con Federfarma e con Assofarma per dare delle informazioni costanti. Io cito questo, che poi ogni tanto lo dico ma mi dimentico. Sfido a chiunque oggi col telefonino di trovarmi la farmacia di turno a San Gemini. Impossibile. O a Narni. O a Stroncone. Impossibile. Impossibile perché ci sono una serie di passaggi che questa informazione viene resa disponibile male. C'è ma è molto farraginosa. Ecco, noi per dirvi nel prossimo numero stamperemo le farmacie di turno, dove chiunque può andarla a cercare sfogliando la rivista cartacea o andando sulla parte web e trova immediatamente questo tipo di informazione. È un'informazione per la famiglia. Perciò io ribadisco questo tipo di linguaggio perché anche i contenuti nella rivista sono con un'espressione molto semplice, molto facile, a un accesso immediato. Tutti gli articoli, finisco, poi concludo, finiscono con un nome, un cognome, un indirizzo, email, un telefono che è la persona che ha scritto quell'articolo. Nel senso che io, primario, ottorino a ringogliata, scrivo un articolo sulla prevenzione, ne rispondo personalmente perché chi ha trovato in quest'articolo la soluzione per sé può chiamare quella persona lì. C'è un riferimento. Questo è importante perché lo strumento editoriale è fatto per le province, perciò il riscontro di ritrovare subito la persona per risolvere il mio problema la trovo qua dentro. E non finisce mai l'articolo con ci siamo salutati e grazie. No, assolutamente. Finisce sempre l'articolo con un nome, un cognome, una mail e un indirizzo telefonico dell'ambulatorio, dell'ospedale, della persona che ha scritto quel tipo di articolo. Questo è importante perché le province hanno questo ribello. Che ci vediamo tutti dalla finestra, cioè io da San Gemini posso venire a Terni perché sono 20 minuti di macchina. Perciò il riscontro di dove trovare la mia soluzione ce l'ho sul territorio. E questo va valorizzato. Già. Già. Allora. Allora. Già. Grazie per la visione!